Lascio la parola a Monsignor Giuseppe Acampa che ci racconterà cosa si può fare in questo senso. Ho accettato volentieri l'invito del Vicepresidente Pinciani di intervenire con una breve riflessione che ho condiviso con il Delegato Diocesano per i beni culturali ecclesiastici, Don Andrea Becchi, che a maggior titolo sarebbe potuto intervenire in questa sede ma è fuori per altri impegni pastorali. Da un paio d'anni condividiamo gomito a gomito proprio la missione, l'avventura della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Una valorizzazione che non è tanto per la produttività dei beni culturali ecclesiastici, questo lo dico da economo, ma piuttosto come investimento, come dicevano anche gli altri interventi precedenti, su quelli che sono le vie della cultura. Quindi non un turismo fine a se stesso ma piuttosto una valorizzazione di itinerari culturali. Cominciando ex abrupto mi permetto di affermare che il problema dei beni culturali ecclesiastici è il loro confinamento nell'ambito del passato. Sappiamo che la Chiesa vive la memoria, anzi è memoria, ancora di più, è memoriale. Perché siccome Dio è entrato nella storia, l'Eterno è entrato nel tempo, quei momenti del passato nei quali l'Eterno ha abitato la storia possono diventare di nuovo presenti in forza della grazia divina. Questa è la missione della Chiesa e ciò avviene esattamente nei sacramenti che in ogni spazio e in ogni tempo permettono di rivivere ancora quel contatto tra Dio e l'uomo. Dall'avvenimento dell'incarnazione, quando la bellezza eterna di Dio si è abbassata alla forma umana e dal suo persistere nel tempo grazie al memoriale liturgico, nasce la cosiddetta arte sacra. L'artista che ritrae Cristo, la Madonna e i Santi sa quindi bene che non produce semplicemente delle immagini del passato, non è storia, non è finito, ma sono raffigurazioni di ineffabili presenze, cioè sono presenti. Si capisce allora come sia improprio accostarsi ai beni culturali ecclesiastici come ad una reliquia di convinzioni passate. Purtroppo è esattamente quello che più facilmente accade in un tempo nel quale l'ipotesi groziana di pensare et si deus non da retur ha condotto a una secolarizzazione almeno apparentemente trionfante. Dunque di fronte alla difficoltà di comprensione della natura dei beni culturali ecclesiastici abbiamo accettato la sfida di suggerire e così ritrovare il loro significato proprio. Una sfida che può essere affrontata con possibilità di vittoria solo recuperando l'esigenza imprescindibile dell'uomo di superare i limiti dello spazio e del tempo. Don Lusek ha parlato dell'uomo come homo viator, che si tratti di Ulisse o di Abramo, si è sempre nel tentativo di andare oltre il limite delle proprie esperienze in cerca di un approdo sempre ulteriore. Allora, il mettersi in moto, l'essere pellegrino, rimane un'esigenza imprescindibile, una manifestazione fisica di un travaglio interiore che anima l'esistenza di ciascuno. Ecco perché il pellegrinaggio ha rappresentato una delle massime espressioni di fede del Medioevo e rimane a tutt'oggi una dimensione irrinunciabile di molte religioni, oltre alla fede cristiana, che si vada all'Urd o alla Mecca, a Gerusalemme o al Sacrofiume del Gange. L'essere in cammino è una delle manifestazioni fondamentali del senso religioso dell'uomo, perché chiede motivazione e comunque vuole una meta, non ci si mette a camminare a caso. Incamminarsi equivale quindi a porsi una domanda, a fare delle profonde riflessioni su di sé. E allora proprio in questa prospettiva vorrei proporre una provocazione. Chi comprenderà meglio la magnifica chiesa dell'Abbazia di Sant'Antimo? Il pellegrino giunto a piedi fra le fertile vigne, piantate in antico dai laboriosi monaci, che si trova davanti un abside circondata da un deambulatorio, oppure il turista che scende veloce dalla macchina o dall'autobus? Chi vorrà ascoltare il silenzio di quelle pietre se non chi ha avvertito tutte quelle domande che nascevano dentro di sé passo dopo passo? Pensate a un pellegrino che arriva stanco, magari con i piedi doloranti davanti al volto santo di Lucca e resta trafitto da quel suo sguardo spiancato, regale e dolcemente misericordioso. Non a caso, forse la prima denominazione di quella eresia dell'ebraismo che era ritenuta la fede cristiana all'inizio, era la via. Cristo aveva aperto per sempre un ponte, per usare un vocabolo di Santa Caterina, una strada per accedere al mondo divino. Sulla via, quelle imponenti abbazie o le madonne o i santi non possono essere più confuse come qualcosa di semplicemente passato. Sono protezione, sono compagnia viva nelle avversità, nelle fatiche del percorso. Se così non fosse, come spiegare il prosperare degli innumerevoli chiese o santuari costruite lungo la via oppure dei tabernacoli che costellano i palazzi delle nostre città? Allora, la via francigena rappresenta una opportunità straordinaria per connettersi nuovamente al contesto esperienziale del quale sono espressioni i beni culturali che arricchiscono straordinariamente il territorio. È una vera occasione per la nostra chiesa locale per vivere la missione che gli è propria che è appunto l'evangelizzazione. Vorrei recuperare un riferimento che ha portato Sua Eccellenza l'Arcivescovo all'inizio di questo convegno ai saluti la modesta testimonianza di quello che può assortire il mettersi in moto. Vi assicuro che non avevo compreso davvero cosa significasse che la Madonna è regina di Siena e del suo antico Stato fino a quando lo scorso 9 giugno nel settecentesimo anniversario della sua collocazione in cattedrale non ne abbiamo portato una copia a grandezza naturale su di un carro trainato da buoi preceduta da una lunga e festante processione. Vedere la grande icona attraversare Pian de Mantellini poi Stallo Reggi quattro cantoni via del Capitano per arrivare nella piazza del Duomo sconquassata dal suono delle campane a festa assistere alla collocazione della copia dinanzi all'attuale altar maggiore del Duomo lei regina acclamata venerata da tutto il popolo ha fatto capire della maestà più di qualsiasi altra spiegazione artistica. quella madonna immagine della chiesa scorgevano proprio i pellegrini che nella francigena sostavano e venivano ospitati nel Santa Maria della Scala dopo essere arrivati laboriosamente faticosamente all'ingresso della cattedrale. E quella stessa maestà che Simone Martini vuole rappresentare nel palazzo comunale che con le sue dodici finestrature si configura come una sorta di Gerusalemme celeste dell'Apocalisse tra il giglio della torre e il mantello spiegato che dà forma alla piazza quel campo dove due volte all'anno in onore di Maria i senesi rappresentano la loro vita nella festa del Palio. E allora questi motivi ci hanno portato a elaborare un progetto di valorizzazione dei beni culturali e del turismo religioso a Siena partendo dalla via francigena ma non fermandoci ad una via ma piuttosto a delle vie. Anche noi abbiamo usato il termine latino perché potrete trovare la sintesi di quanto abbiamo pensato nel sito www.viaesiena.it una serie di itinerari che invitano a percorrere la città e il territorio sulle orme di Santa Caterina o degli ordini mendicanti o ad ammirare le tracce della devozione alla Vergina oppure nel territorio di Ocesana scoprire le cattedrali cuore delle città medievali. Allora abbiamo la via di Santa Caterina che da San Domenico dalla casa di Santa Caterina arriva fino a Santa Caterina della notte passando attraverso il Battistero abbiamo la via Mariana che Duomo Provenzano i servi di Maria arriva fino al cuore della città che è lo stesso palazzo pubblico la via degli ordini mendicanti che con un circolo all'interno della città individua le grandi basiliche di quel modello di santità che gli ordini mendicanti volevano portare dal monastero in cui fino a quel tempo erano stati relegati alla vita comune del popolo di Dio stando proprio in mezzo alla gente. Tutto questo ha rappresentato la nostra rete delle opportunità perché è stato possibile realizzarlo in corso di realizzazione grazie proprio alla rete che si è creata attraverso le istituzioni in modo particolare vernice progetti culturali e la fondazione Monte dei Paschi per quello che riguarda sia la realizzazione del portale internet che dei corsi di formazione che sono stati fatti sia per le guide che per delle borse di studio ringrazio anche il sindaco Franco Cecuzzi che ieri proprio all'apertura di questo convegno ha ricordato con attenzione questi nostri interventi mirati alla valorizzazione culturale del nostro territorio della nostra città la collaborazione con l'amministrazione provinciale per quello che riguarda la via francigena e in questo senso stiamo pensando all'apertura di un punto di accoglienza proprio a Colle Valdelsa che è un elemento un tassello mancante nell'itinerario nord della città che dal punto di vista proprio degli afflussi è quello attualmente più battuto o più vissuto dall'altra parte la collaborazione con l'amministrazione comunale proprio per terminare e completare il percorso delle vie all'interno del palazzo pubblico e l'apertura che è stata fatta su eccellenza l'arcivisco proprio nella riflessione di un museo unificato che permetta poi anche un'ulteriore valorizzazione di quelli che sono i beni culturali dell'arte sacra nella lettura del territorio e quindi diceva con la città del Vaticano anche con l'opera romana Pellegrinaggi che è estremamente interessata a questo tipo di riflessione perché apre la meta del pellegrinaggio della Francigena a degli pellegrinaggi più piccoli a degli intrapellegrinaggi che è proprio della missione stessa dell'istituzione e in questo senso che si sta pensando anche a un portale fisico di accoglienza dei pellegrini proprio nella prossimità della piazza del Duomo e che probabilmente nel giro di un mese sarà possibile aprire e al tempo stesso anche subito al termine dell'estate una vera e propria festa del pellegrino in collaborazione con l'opera romana Pellegrinaggi proprio per rimarcare questa nostra attenzione al territorio in conclusione se ogni opera d'arte per essere apprezzata ha bisogno della disponibilità dell'interlocutore a mettersi in gioco a distanziarsi dal proprio vissuto per immergersi nell'esperienza di un altro per poi riconoscervi in altre parole se apprezzare l'arte è un incontro allora riproporre un'antica via di pellegrinaggio è realmente un'opportunità unica per aprire la chiusura dell'individuo di oggi tanto serrata a dispetto della disponibilità dei mezzi di comunicazione all'ineffabile e al trascendente grazie ringraziamo il Monsignor Acampa per questo appassionato intervento sul tema degli itinerari ma anche della spiritualità in modo molto intenso e in effetti sicuramente questo intervento ampia l'idea della rete delle opportunità cioè del fatto di come lavorando in modo sinergico tra le varie forze in campo diciamo così sulla francigena che rappresentano varie istituzioni e vari organismi nazionali internazionali si può veramente fare qualcosa di importante per portare per far crescere questo itinerario farlo diventare un vero e proprio itinerario europeo grazie a tutti